Era in programma per Capodanno il mega evento organizzato da quattro noti locali di Fanno al circolo Tennis Trave, ma sulle due settimane di distanza è arrivata la bocciatura da parte della Commissione Comunale di Vigilanza e sui pubblici spettacoli che non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'iniziativa. Si può solo immaginare la delusione di chi da tempo stava organizzando la serata e di certo sarebbe stata un'occasione di lavoro per decine di persone. L'idea dei gestori fanesi sarebbe stata quella di preparare i tavoli per la cena nella struttura coperta del circolo di 1200 metri quadrati e accogliere in un'attenso struttura esterna gli ospiti che sarebbero arrivati dopo la mezzanotte. Il problema è che mancano le condizioni di sicurezza anche in previsione dell'afflusso di gente e dopo alcuni articoli usciti sulla stampa locale il sindaco di Fanno Massimo Seri ha voluto fare alcune precisazioni sull'argomento rigettando ogni responsabilità. Se la festa non ha avuto il parere positivo, ha detto non è colpa dell'amministrazione comunale addirittura in giunta avevamo l'atto deliberativo pronto per dare il patrocinio all'evento. Una città che non ha bisogno di essere danneggiata, che ha delle potenzialità, che sta funzionando ha preso un bel ritmo, anche il Natale sta dando benissimo, la gente è contenta delle varie iniziative. Allora questo ci tengo a precisarlo.